Signore e signori, ecco qui la mia bellissima casetta delle LOL Surprise! Tutta pregiata di legno, quattro stanze per le mie adorabilissime LOL Surprise! Questa è la camera da letto! Oh, ci sono due LOL, non so se si vede quella dietro a questa LOL, però comunque sono due, ecco adesso qui c'è una LOL, ciao, ciao, vado a dormire! Andiamo nella stanza di sotto, vediamo cosa c'è, un bellissimo salotto, questa qui è la mia bellissima LOL in un salotto. Andiamo all'altro piano, che sarebbe una cucina se si vede, sì, è una cucina infatti, qui la stanza dove si cucina, e di sopra c'è tavola e sedie, quindi c'è un posto dove cucinare, cucina dove cucinare, E di sopra, aspettate, di sopra c'è la cucina. Non so se questo video vi è piaciuto, ma se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, e se non vi è piaciuto un pollice in giù. Ciao, ciao! Ciao!